Lo possiamo quasi definire come un bilancio di un percorso artistico, quello che Maria Cristina Ballestracci, artista poliedrica dell'Eterna Rinascita, presenta al Consorzio Agrario di Sant'Arcangelo. Fino all'11 novembre rimarrà allestita la mostra Oltrepassi 201 Off, Officina dei Sensi. È un'antologica dai miei vent'anni di lavoro, partendo dal primo relitto all'ultima scarpa che ho raccolto, perché ai primi progetti raccoglievo relitti, relitti che avevano comunque una valenza umana, nel senso dovevano essere pezzi di barca, comunque cose che erano state toccate dall'uomo, fino all'ultimo progetto dove ho raccolto 201 scarpe e quindi c'è poi anche l'ultima scarpa che ho raccolto. Quindi è proprio un'antologica dei miei vent'anni di lavoro. È molto bello stare qui in questo luogo così suggestivo, così comunicativo. Io ho ottenuto una masterclass che durerà quattro giorni di fisarmonica e più in generale sulla musica improvvisata. Ed è molto bello stare qui perché nel frattempo succedono un sacco di cose, corsi di flamenco, c'è questa mostra bellissima in questo luogo comunque molto evocativo e mi piace pensare che questo restituisca un po' all'arte anche un po' l'artigianalità nel farla, nel costruire un progetto, nel metterlo insieme. Insomma, quindi un luogo sicuramente da visitare, sicuramente che oltre a dare tante emozioni, dà molta ispirazione.